Nelle gare Benvenuti anche a Battilani Fabio Battilani con Cristian Cerdini al suo fianco si tratta dell'ottava posizione in quella classe R2B che aveva tanti pretendenti al titolo quindi non era certamente facile da scalare No, è stata veramente molto difficile le strade molto complicate una bella gara, bellissima e ho fatto tanta esperienza che ci servirà per quest'altro anno Pronti allora per lavorare e lavorare con efficienza massima Battilani grazie per la partecipazione buon rientro anche a voi ovviamente ahimè a mani vuote in questo caso ma con il bagaglio di esperienza che si diceva Ciao ragazzi, grazie